Il terremoto come occasione persa per agganciare una vera rinascita economica e sociale della città. A dirlo è Francesco Carrera, architetto urbanista, già presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il quale la rivisitazione urbanistica della città è ormai compromessa. Occorre ora far ripartire la base economica, perché si verifichino anche le condizioni per una ripresa sociale, dice il grande architetto. Il terremoto avrebbe potuto essere un'opportunità, invece si è pensato soltanto a seguire la filiera produttiva. Carrera è intervenuto con queste parole in occasione del primo incontro della Task Force L'Aquila dieci anni dopo e oltre di esperti incaricata di realizzare un piano interdisciplinare integrato per il futuro della città realizzata dalla Fondazione Magna Carta, presieduta dal senatore Gatano Quagliariello nell'ambito del programma istituzionale promosso dal Comune dell'Aquila per il decennale del sisma. Un progetto che nasce dalla convinzione che il decimo anniversario della tragedia del 2009 non debba essere solo il momento dei consuntivi, ma anche e soprattutto l'occasione per fare un salto di qualità progettuale. Noi abbiamo tantissimi problemi immediati e su questi dobbiamo evidentemente agire come politici, ma poi abbiamo un problema di prospettiva nel momento in cui la ricostruzione verrà ultimata, nel momento in cui l'Aquila non avrà più finanziamenti pubblici. Un progetto che non può prescindere dal veicolare una nuova immagine di città. La verità è che l'Aquila non aveva una vocazione prima del terremoto, l'aveva smarrita da tempo. Il terremoto è stata una catastrofe e la logica emergenziale sacrosanta ha impedito poi di ritrovarla dopo. È ora di ritrovare un'anima, una vocazione di fondo. Questo è il punto. Poi, te lo dico polemicamente, mi pare che nel resto del paese neanche questa lezione sia stata metabolizzata. Mi pare che sulla sicurezza a ogni catastrofe si ricomincia da capo. Ricominciare da una nuova prospettiva tecnica per trasformare l'Aquila in un laboratorio internazionale, dice il vice-rettore del Politecnico di Torino, Bernardino Chiaia. Noi abbiamo conosciuto dal 2009 gli accadimenti di questa città. Il Politecnico si è interessato attivamente della varie operazioni di ricostruzione e consolidamento. Oggi bisogna pensare al futuro.